100 metri, bivio destra nel guado, con calma subito in versione destra, stretta allargati nel campo in caso dopo il guado, su a destra, dalla mia 100 metri sinistra e subito destra, poi dalla mia di qua alla casa bivio destra e subito bivio sinistra subito di qua alle persone in versione sinistra bene 800 a vista in mezzo ai campi 100 metri, occhio questo è stretto a destra bivio stretto a destra bivio sinistra agli alberi al rosso bivio sinistra via giù, fino alle rotovalle bivio sinistra in mezzo alle rotovalle bivio sinistra prima del sottopasso svolta a destra prima del sottopasso alle valle a destra 700 metri tutti veloci adesso ancora 200 e poi bivio destra 200 e poi alle fetucce bivio destra dalla mia taglia, taglia, taglia taglia poi tra 200 metri agli alberi tieni la sinistra tieni la sinistra qua dentro qua in fondo c'è la destra media destra media qua via dritto scavalla dritto destra destra limite 30 piano 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 cazzo si è staccato ma te pareva boh continua così e qua destra bivio destro bene qua a sinistra quella che va in mezzo e sale a destra qua su a destra occhio stringe sul ponte e via a destra 150 metri tieni la sinistra sinistra bella tutto dritto fino alla chicana adesso un chilometro al bivio sinistra adesso queste due veloci e dopo 100 metri e poi piano piano sul ponte con calma questo è stretto è piccolo e stretto 200 metri bivio destro su asfalto e stai a sinistra perché facciamo subito un'inversione dalla mia subito un'inversione bivio sinistro dalla tua bivio sinistro dalla tua su tutto fino alla fine ok bella è stata questa il tempo come prima ma Grazie a tutti